in questa puntata di misteri tra libri parliamo di una biblioteca intera la cosiddetta biblioteca corvina o corvignana ovvero la grande raccolta di manoscritti messa insieme dal re di ungheria mattia corvino quando mattia corvino muore nel 1490 nel suo palazzo di buda ha raccolto circa 2.500 manoscritti che è un numero enorme manoscritti preziosissimi perché è da un lato perché in tanti casi le aveva commissionati lui stesso per lo più a firenze e si trattava di codici di estremo lusso sia per le legature ma sia soprattutto per le miniature bellissime fatte da grandi artisti che decoravano il testo ma poi si trattava anche di manoscritti preziosissimi per il contenuto perché appunto alcuni dei codici della biblioteca corviniana tramandavano opere che altrimenti non erano attestate da nessuna parte tra cui tanto per fare un esempio il trattato sulle cerimonie dell'imperatore bizantino costantino porfiro genito cosa succede che nel 1526 questa biblioteca viene trafugata dispersa portata via con un fatto non chiaro molto misterioso perché in seguito alla battaglia di moac gli ottomani conquistano e saccheggiano buda a quel punto si cerca nei secoli successivi di rintracciare di ritrovare questi questi manoscritti alcuni vengono recuperati soprattutto a costantinopoli che verranno venduti o restituiti anche all'ungheria nel corso nel corso dei secoli ed oggi ne abbiamo circa qualcosa più di 200 quindi circa il 10 per della raccolta originale che secondo alcune testimonianze avrebbe contenuto anche testi per esempio di saffo di alceo addirittura di ennio un poeta romano di cui ci restano solo frammenti queste notizie a volte sono state accolte con scetticismo ma alcuni ritrovamenti recenti lasciano forse un margine di dubbio uno spiraglio in merito a questo si vocifera che alcuni resti della biblioteca di mattia corvino si troverebbero in medio oriente sono leggende che circolano diffuse si parla addirittura dell'iraq difficile tuttavia pensare che sia vero la cosa forse più bella è che tuttavia negli ultimi anni è stata ricreata una biblioteca corviniana virtuale con la digitalizzazione di tutti i codici superstiti di mattia corvino alcuni dei quali sono veramente stupendi e questa raccolta virtuale è liberamente accessibile e quindi visitandola si può sognare immaginare i tesori che appunto un tempo erano contenuti nella biblioteca del re di ungheria mattia corvino